E allora cari amici ben ritrovati, che bello ritrovarvi, spero che sia una cosa reciproca, ben ritrovati qui su Milanello, il nostro canale YouTube dedicato al Milan, sono euforico, quando il Milan vince si inizia bene la settimana e quest'anno siamo abituati devo dire molto bene, di nuovo buongiorno, di nuovo buona settimana a tutti, ragazzi questa mattina vi ho dato il buongiorno con le pagelle, tanto seguite, tanto commentate, andate a vederle mi raccomando al termine di questo video se non lo avete ancora fatto, e come sempre all'inizio di ogni video, il primo minuto ve lo rubo come? Chiedendovi di lasciare i like ragazzi per aiutarci a crescere, più like, più Milanello per tutti, stiamo per scavalcare tra l'altro gli amici di Juventibus, del mio collega Momblano, canale dedicato alla Juventus, partivamo da molto indietro, siamo lì quindi ragazzi iscrivetevi qui, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi qui sulla banderina rossolera per non perdere nulla sul mondo del Milan e facciamo vedere anche qui su Milanello su Youtube che comanda il Milan guardiamo e riguardiamo la classifica ragazzi, primi, meritatamente primi, siamo lì e cerchiamo di rimanere fino in fondo lì perché io ormai ci ho fatto la bocca, non so voi, ma me stare lì piace ecco anche perché insomma siamo stati tante volte lì e è vero che da tanti anni non siamo più in quella posizione ma lì dovremmo essere sempre mi sono piaciuti tanti messaggi, cito Matteo che oggi mi scrive ho passato tanti anni in cantiere con le cuffie rossonere per non sentirmi cosa mi dicevano, comunque li sentiva e adesso mi diverto io è un po' la fotografia del tifoso rossonero che è rinato quest'anno con la squadra, che sta rinascendo in ogni caso siamo tornati a essere squadra con la S maiuscola e questa è una cosa fondamentale perché il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle e davanti vedo una luce che mi illumina, guardate che bella luce guardate, luce naturale non è luce artificiale, è la luce del Milan dopo questa introduzione un po' poetica da libro cuore andiamo a discutere di una possibile svolta clamorosa del Milan devo dire che ieri il rientro di Cialanoglu è stato molto impattante sulla partita alla faccia delle dichiarazioni di Pioli che diceva ma non sta ancora benissimo postumi della positività al tampone, ha avuto i sintomi all'inizio, invece è entrato molto bene abbiamo capito, guardiamoci negli occhi, guardiamoci insieme e parliamo insieme a voce alta Cialanoglu è fondamentale per il Milan, è un punto fermo e da lì non deve essere spostato neanche in futuro parleremo di discorso mercato, del discorso rinnovo, stiamo cercando ulteriori informazioni ah poi c'è una sorpresa ve la dico tra poco ma deve giocare lì, deve giocare lì abbiamo Ibra che deve giocare davanti, un gol ogni 63 minuti straordinario però nel frattempo abbiamo scoperto, o meglio forse abbiamo scoperto qualche risorsa nuova abbiamo confermato vecchie risorse che sono fondamentali il problema è che dalla tre quarti in poi si gioca in quattro massimo, perché più di così non si può giocare noi abbiamo i tre dietro la punta che è Ibraimovic punti fermi, inamovibili, Ibraimovic c'è la Noglu con Ibra che potrà avere un po' di ricambio da Mandzukic e poi abbiamo una posizione di destra e una posizione di sinistra a sinistra abbiamo molta abbondanza, perché abbiamo Leao, abbiamo Rebic abbiamo poi anche Aug che comunque è sceso nelle gerarchie e abbiamo anche Mandzukic devo dire che per la titolarità a regime il ballottaggio è tra Leao e Rebic con Leao che sicuramente in fase offensiva ha delle qualità importanti ma pecca in fase difensiva con Rebic che abbina a una buona qualità offensiva ieri ha fatto due gol ma è uno che fa anche assist una ottima fase difensiva tra virgolette ebbene la tentazione di Pioli che non è stata neanche smentita ieri che comunque da qualche giorno inizia a circolare riguarda appunto una nuova disposizione degli uomini là davanti per non rinunciare un po' a tutte le qualità il punto di partenza è che sulla destra stiamo facendo un po' fatica Cassieco ha giocato nell'ultimo periodo ma non ha fatto la differenza fa fatica a incidere in termini realizzativi, in termini di assist in termini anche di qualità e di quantità Sare Makers ci aveva abituato a dei buoni standard nella prima parte della scorsa stagione quindi l'anno scorso sì anno solare intendo e a un certo punto era diventato un titolare inamovibile e indiscusso abbinava qualità a quantità faceva davanti la differenza e aiutava anche dietro Calabria con un asse molto importante da quando è rientrato positività al tampone espulsione condizione forse non ancora ottimale sta facendo un po' di fatica quindi la grande tentazione di Pioli e vi spiego quando potrà essere messa in pratica riguarda l'impiego contemporaneo di Ibra ovviamente di Cianoglu ma anche di Leao Erebic come? Leao non sulla destra perché Pioli anche ieri ha detto che sulla destra fa troppa fatica Leao a sinistra dove comunque è il suo ruolo abbiamo capito naturale dove può svariare può andare in profondità può accentrarsi e può fare la differenza facendo assist incursioni e anche reti nel suo ruolo naturale E Erebic 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 che è uno molto più adattabile che fa un lavoro tattico importante che si può anche sacrificare che può anche apprendere meglio spostarlo sulla destra dove comunque ha giocato nella sua carriera seppur in un attacco un po' diverso quindi che cosa sarebbe quali sarebbero i pro? i pro che avremmo un potenziale offensivo straordinario come gol come assist i contro sarebbero che il primo a sinistra Leao e Teo Hernandez non sarebbero la stessa cosa di Erebic e Teo Hernandez Teo le partite migliori parliamoci chiaro le fa quando c'è Erebic che lo aiuta anche a livello difensivo quando ha giocato con Leao ha fatto molto più fatica ha sofferto dietro o comunque non è andato a sfondare non ha mai messo il turbo dall'altra parte avremo però Erebic che con Calabria potrebbe ricomporre la coppia di sinistra sulla destra Calabria è un altro che sta facendo molto bene una coppia sulla destra Calabria-Erebic sarebbe molto importante e a livello difensivo e anche a livello offensivo con Calabria che ultimamente sta andando molto anche in aria ieri ha fatto un gol poi annullato ha fatto un colpo di testa ravvicinato con Skorowski che ha smanacciato e sta prendendo coraggio il tiro anche da fuori sta andando molto quindi in questo caso avremo però una corsia di sinistra molto sbilanciata in avanti e che quindi dietro farebbe fatica una corsia di destra molto meglio calibrata ed equilibrata ad offendere e anche a difendere con Celanoglu evidentemente che può fare da equilibratore tattico il suo ruolo straordinario come lo interpreta oggi in maniera molto moderna guardando la porta nostra riesce a fare la differenza guardando la porta loro riesce a fare la differenza e in questo come ha detto Pioli ieri è un giocatore unico nel Milan è chiaro che sarebbe stato meglio provarlo in queste partite magari sulla carta un po' più agevoli il problema è che nelle ultime partite per un motivo o per l'altro non ci sono mai stati tutti e quindi con Brian Diaz ad esempio non potevi farlo questo assetto tattico così offensivo lo puoi fare soltanto se Celanoglu in campo altrimenti è da escludere e vediamo se si può vedere in partenza qualche volta secondo me è un'idea in questo momento più per la gara in corso se le cose non si mettono bene allora Leao a sinistra c'è la Lago al centro Ibra davanti a destra Rebic con Sanemakers e Cassieco che eventualmente andrebbero in panchina Cassieco è sicuramente in questo Milan una riserva Sanemakers nelle migliori condizioni secondo me può fare il titolare io non ci credevo molto mi ha impressionato adesso probabilmente un po' giù di forma un po' indietro di condizione ci può stare però se devi recuperare la partita speriamo di no attenzione perché Leao Rebic Celanoglu e Ibraimovic può essere la carta da giocare e talvolta la storia nel passato ha tantissimi esempi quello che poi vedi in un frangente può diventare la formazione definitiva titolare a regime si può giocare anche così è chiaro che per arrivare a giocare in quel moto devi prima provarlo e in questo momento il Milan non ha potuto provarlo l'avrà fatto magari a Milanello non ha potuto provarlo appunto in campo vediamo questa è una tentazione forte di Pioli con un centrocampo che deve sicuramente fare molta legna che sia insuperabile il rientro di Benasser può in questo senso essere un ulteriore motivo per sperimentare è chiaro che servirebbero partite un po' più semplici con lo Spezia secondo me non è facile poi ci sono Inter Roma insomma il cammino non è agevole può essere però la variante da giocare a gara in corso a regime lo diventerà questo lo scopriremo insieme è una tentazione comunque che c'è che c'è proprio perché a destra bisogna alzare il livello qualitativo soprattutto non è un caso che il Milan si stia muovendo sul mercato soprattutto per migliorare la qualità sulla fascia destra il primo obiettivo è Toven che gioca lì che è uno che sottoporta insomma fa molto più la differenza rispetto a Sallemakers e soprattutto Castieco che cosa ne pensate di questa possibile rivoluzione clamorosa del Milan scrivetemelo qui sotto nei commenti ragazzi lasciate tanti like mi raccomando iscrivetevi qui se non l'avete ancora fatto e poi nelle prossime ore avremo un approfondimento esclusivo per quanto riguarda Toven quindi rimanete sintonizzati stiamo ultimando il tutto e spero sarà un contributo molto apprezzato da tutti voi perché insomma andremo andremo a fondo della vicenda e non vi anticipo nulla ragazzi ci vediamo magari più tardi se ci saranno altre novità adesso se vi va andate a vedere le pagine di questa mattina mi raccomando ci conto e ripeto voglio sentire il vostro commento sì o no questi quattro tutti insieme a gara in corso eventualmente o perché no anche come formazione iniziale se si riesce a trovare tutto l'equilibrio ricordiamo quando c'è la svolta con Ancelotti che mette in campo tutti i giocatori offensivi prima era imprevedibile poi con quella formazione abbiamo trovato comunque il nostro equilibrio siamo andati a vincere contro tutto e contro tutti ovunque chissà ragazzi intanto godiamoci questo lunedì godiamoci questa settimana un abbraccio ci rivediamo dopo mando un abbraccio a tutti voi forza Milan e forza anche Milanello iscrivetevi qui ciao magari dopo una diretta forse ciao ciao